La situazione pandemica avrebbe avuto un picco estremamente alto, contiamo decine di migliaia di contagiati in Campania e questo ha creato una grande pressione sugli ospedali, i dati ci dicono che il picco si sta raffreddando, che la situazione sta migliorando. Credo che in conseguenza di questo si potrà rapidamente sbloccare anche l'offerta ospedaliera per le altre malattie e ritornare alla normalità. Noi dobbiamo uscire da questa emergenza pandemica perché solo in questa maniera possiamo tornare alla normalità e fare in modo che poi tutte le offerte dei servizi siano soddisfacenti.